Allora, piccolo aggiornamento, ho fatto l'esame, la dottoressa che tra l'altro conosco, perché vent'anni fa ero la sua segretaria, quindi mi conosce bene, che è anche quella che mi ha fatto la biopsia, l'ago aspirato al polmone per quei noduli che avevo, mi ha solo detto fa, che ha guardato veloce l'attacca e ha visto che i noduli al polmone non sono cresciuti, però il resto non ha ancora guardato, quindi avrò il referto completo venerdì pomeriggio, alla una e mezza ho l'appuntamento con l'oncologo e quindi saprò tutto, però se non altro mi sento positivamente tranquilla, ecco, se non altro queste lesioni, noduli, come li vogliamo chiamare, che sono veramente millimetrici, non sono cresciuti, speriamo in bene. Ecco, adesso vado a casa e preparo Milo, che lo porto a lavare e pettinare, perché perde un sacco di pelo e qui sta già pioviginando, è brutto tempo oggi, vabbè, niente, io vi abbraccio, grazie per i vostri messaggi calorosi, come sempre, siete tutti fantastici, vorrei potervi abbracciare tutti e vi mando un bacio e ci sentiamo presto, ciao!